L'associazione Siamo Taranto e a Tramontone supporta ormai frequentemente e sistematicamente come volontariato l'azione di Chimambiente, raccoglie i vari rifiuti che i vari incivili senza alcuna misericordia abbandonano e quindi svolge veramente un'azione meritoria. Ci siamo soffermati, stiamo da circa una mezz'oretta proprio per vedere come procedono i lavori e insomma oggi come sta andando la giornata? Almeno dai rifiuti vedo che qui il fiume dei rifiuti non finisce mai. Tutti i giorni si potrebbe venire a pulire qua. Poi pulite l'indomani qualcuno sporca. Poi c'è il problema degli inerti, quelli che fanno i lavori dentro casa. L'edilizia. L'edilizia, sì. E noi raccogliamo gli inerti perché ancora il Comune ha dato l'appalto a Chima per la raccolta degli inerti ma ancora però non è cominciata. Però ovviamente non giustifica l'inciviltà perché esistono le discariche. No, oltre alle discariche dicono ci sta pure il problema degli inerti. Eccola per esempio. Sì, l'abbiamo ripresi ma la cosa assurda è vedere chi sistematicamente proprio ritiene opportuno fare i lavori in casa e poi andare a smaltire, ad abbandonare il materiale di risulta. Purtroppo è così, è un'abitudine. Esistono le discariche, si paga qualcosa ma... Ma non è che si paga poi tanto. No, infatti relativamente. Non si va perché ce l'ho giù vicino a casa, dice, oppure abbandonare da qualche parte. Anche perché questa è diventata una zona purtroppo, lo dicevo prima, che proprio sembra indicata da queste scelte, preferita da questi incivili, forse perché è poco controllata, ci sono i punti nascosti e magari in ore morte si va e si scarica tutto. Certo, come no. Sì, 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 è vero, ecco sì, sì. Purtroppo non lo so, non so che dire. Noi facciamo il nostro. In silenzio. Però è triste pensare che domani, no? Proprio tutto questo lavoro... Ecco gli esempi, però, vediamo... Però, diciamo, è un contagio positivo nel senso proprio di insegnare a vivere, a essere civili, soprattutto nei confronti dei più piccoli. Stanno nascendo tanti gruppi, stanno nascendo, ma anche in altre città, in altre località comunque d'Italia, e siamo in contatto con questi, no? Diciamo, ci confortiamo a vicino. Vi supportate. Però la cosa bella è questa, che alla fine poi sei soddisfatto. Hai lasciato qualcosa di bello, va?